TALENT TALENT La tecnologia di心a di VACUM Il centro di competenza di Cefla di Finishing Group è la Levedove in Germania. Grazie alla tecnologia patente, VACUM garantisce un standard avanzato per finire in molte parti di applicazione. TALENT TALENT Managgia la lunga e homogenea di film. Da 1 a 6 parti in un pass. Sistema di calcio Sistema di calcio automatico per prodotti a base di acqua. Sistema anti-foaming Sistema del sistema di calcio. Speedo di produzione up to 300 m per minuto. Abbiamo diverse tante. Tante per calciare. 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 per creare effetti sui pannelli. Head-for-edges. Può essere affittata sull'acqua della macchina di cozzetta per imparare i pannelli. Dobbiamo formarlo in modo di formarlo sull'acqua di cozzetta. Può essere fatto metallo o plastica. Grazie per la visione!